Dal 4 settembre al via il campionato di eccellenza. La Lega Sicula annuncia la data di partenza del massimo campionato dilettantistico regionale nel primo comunicato della stagione 2022-2023. Due gironi A e B che vedranno impegnate complessivamente 32 squadre, diverse blasonate con un passato prestigioso non solo in Serie D, anche in Serie C, accomunate dallo stesso obiettivo, il salto di categoria. Su tutte Acragas, Nissa, Enna e Mazzara nel girone occidentale, Siracusa, Leonzio, Modica e Igea in quello orientale. Il termine per formalizzare l'iscrizione scadrà alle ore 17 di martedì 26 luglio. Condizioni inderogabili, la disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di enti federali, società e tesserati, il versamento delle somme previste a titolo di diritti e oneri finanziari. Prima del debutto in campionato, le squadre di eccellenza saranno chiamate all'esordio in Coppa Italia, Memorial Gianfranco Provenzano. La prima fase è prevista domenica 28 agosto e mercoledì 7 settembre. La finale regionale si disputerà allo stadio Aldo Campo di Ragusa. Il comitato regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha confermato anche lo svolgimento del campionato Juniors Under 19, obbligatorio per le società di eccellenza. Potranno partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 2004 e che comunque abbiano compiuto il 15esimo anno d'età, consentito l'impiego di un massimo di 4 calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 2003.